Parte un nuovo progetto dalla società della pallovale di Caltanissetta presieduta da Giuseppe Lo Celso. Nista Rugby Kids è rivolto a tutti i bambini dai due anni in su, appuntamento ogni martedì e giovedì al Palamilan. Responsabile del progetto il tecnico federale Sonia Orlando, figura ormai storica della Nista Rugby come atleta prima ed allenatore dopo. Il progetto nasce per proporre un gioco semplice, dinamico e divertente, rispettando le capacità psicofisiche dei piccoli giocatori. Dal punto di vista motorio contribuisce a sviluppare molteplici capacità motorie in quanto tutte le parti del corpo sono coinvolte e ad accrescere l'interesse del bambino al gioco. Il progetto promuove quindi attività sportiva che va da una fascetta che va dai due fino a 90 anni, però in questo particolar caso si rifà l'età che va dai due fino ai sette, quindi vengono qua, fanno psicomotricità, avviamento allo sport, vengono, si divertono, stanno un pochettino insieme e conoscono anche altri bambini.